Nella nostra società ci sono dei fatti normali che vengono scambiati per patologici e viceversa. La prima volta che mi sono attravestito è stato per puro divertimento. Ero in vacanza in montagna e c'era brutto tempo. Mia figlia e mia moglie con le loro amiche andavano a comprare delle borsette in un paese vicino, io dovevo escogitare qualche cosa che mi desse un po' di divertimento. Allora mi sono fatto prestare un impermeabile di un colore con il quale nessuno mi aveva mai visto prima, un copricapo e degli occhiali che mi rendevano irriconoscibile e un enorme binocolo che piazzato davanti agli occhi per un tempo immutabile mi avrebbe salvaguardato la percezione della mia fisionomia. A questo ho anche aggiunto un certo modo di zoppicare con un'ampia falcata un espediente per attirare l'attenzione, per non passare inosservato. Quando guardavo le montagne nessuno si accorgeva di me, ma quando soguardando di lato fissavo a pochi centimetri di distanza un palo potevo notare le impressioni diversissime della gente. C'era chi mi guardava con indifferenza, anche chi mi guardava con compassione e anche chi mi guardava con disprezzo. Io avevo la sensazione di agire in un raro momento di coscienza. La cosa che mi incuriosisce di più è qual è l'aspetto, in che senso la coscienza si risveglia in questa situazione. Quando alla fine il divertimento è un pochettino sfumato e ha preso il sopravvento invece l'interesse per le mie reazioni personali, non per quelle degli altri, mi sono reso conto che il travestimento può essere una vera forma di iniziazione. Se fossi un ministro dell'educazione io credo che lo proporrei nelle scuole, perché è uno sviluppo dell'autocoscienza. Grazie a tutti.